Sono in partenza per New York per partecipare all'Assemblea delle Nazioni Unite. Lì, come farà poi il Presidente del Consiglio, porrò il problema della immigrazione. La questione Africa non è una questione che può essere risolta soltanto dall'Italia. Non basta neanche l'intervento dell'Unione Europea, seppur necessario. Serve il coinvolgimento delle Nazioni Unite, perché c'è un clima veramente difficile in tutto il Sahel. I flussi migratori sono destinati ad aumentare se non ci sarà un'azione congiunta. Parlerò della questione anche durante la riunione dei Ministri degli Esti e dell'Unione Europea che si svolgerà proprio a New York e all'ordine del giorno abbiamo fatto inserire la questione migrazione. Il Governo è al lavoro per trovare soluzioni concrete, ma anche per rinforzare una già efficace azione diplomatica.